Amiche ed amici, ben trovati, sono il dottor Vincenzo D'Amico e questa sera nella nostra consueta rubrica di odontoiatria parleremo dei tumori del cavorale. Le patologie della bocca sono in continuo aumento, si calcola che ogni anno muoiono 3000 italiani di tumore della bocca e che questa sia la sesta causa di morte nelle patologie neoplastiche. Tutto ciò è abbastanza imbarazzante se si pensa che le persone mediamente vanno dal dentista almeno una volta l'anno e che una patologia del genere non riesce certo ad uccidere in un anno. Ciò significa che uno screening più appropriato è sempre più che mai necessario. Generalmente le neoplastie del cavorale hanno origine da lesioni già esistenti che vengono definite in ambiente tecnico precancerosi. Per precancerosi del cavorale intendiamo una serie di lesioni non ancora tumorali ma che hanno la possibilità di diventarlo. Queste possono essere legate all'HPV, papillomi, oppure legate a delle forme di cicatrizzazione all'interno della bocca come ad esempio i fibromi o come delle ulcere da decubito dovute alla protesi possono essere lesioni bianche o lesioni rosse, possono essere nevi oppure possono essere delle zone traumatiche. Per quanto riguarda le lesioni bianche, la lesione bianca per eccellenza, la precancerosi per eccellenza è il lichenplanus. Il lichenplanus è una forma di malattia autoimmune tipica delle persone immunodepresse e dei fumatori. Si sviluppa bilateralmente, quindi abbiamo due zone delle guance interessate e nel 3% dei casi può trasformarsi in un carcinoma. Tra le varie lesioni, le lesioni rosse sono sicuramente le più aggressive, quelle nelle quali la biopsia è quasi sempre raccomandata. Abbiamo una breve carrellata di immagini in sostegno di quanto stiamo dicendo. Questo è un carcinoma squamo cellulare della lingua che si sviluppa nel terzo posteriore della lingua. Ecco che, come detto precedentemente, l'analisi dei tessuti molli in prima seduta è fondamentale. La lingua deve essere tirata fuori e deve essere vista a destra e sinistra. Ricordiamo che purtroppo una lesione del genere ha una prognosi in fausta. Ecco che qui soltanto uno screening precoce può salvarci la vita. Per quanto riguarda le leucoplachie, quindi lesioni bianche, abbiamo come in questo caso un lichen dovuto essenzialmente a immunosuppressione e fumo, come già detto precedentemente, e questo tipo di patologia va anche in diagnosi differenziale con la classica morsicatura delle guance. Un'altra cosa, per fortuna molto rara, che però si può riscontrare all'interno della nostra bocca, è la presenza di nevi. I nevi possono trasformarsi in una bassa percentuale di case in melanomi. I melanomi del cavo orale sono tra le patologie neoplastiche più aggressive. Hanno la tendenza a crescere sulla gengiva aderente che è strettamente in contatto con l'osso e di conseguenza metastatizzare velocemente attraverso le ossa. E purtroppo sappiamo tutti che la metastatizzazione ossea è una discriminante per la sopravvivenza di vita molto molto in fausta. La procedura operatoria che viene affrontata in questi casi esula dalle competenze ambulatoriali e rientra nella pratica della maxillo facciale. Tuttavia, quello che si può fare è una biopsia incisionale se la lesione è molto estesa per valutarne l'origine o una biopsia escisionale, quindi eliminare tutta la lesione se siamo sicuri che la lesione non abbia infiltrato i tessuti sottostanti. Riconoscerle non è impossibile, l'importante è avere dei protocolli ben chiari. è importante, come già detto nei nostri primi appuntamenti, l'analisi e la palpazione dei linfonodi perché sono una discriminante molto importante. Un linfonodo gonfio, quasi mai dolente e immobile ci danno già l'idea della possibilità di avere una nepolasia in bocca. L'ulcera che si sviluppa nel cavo orale, a differenza delle lesioni traumatiche, non è dolorosa, non ha la capacità di guarire neanche con l'utilizzo di cortisonici, neanche con l'utilizzo di antibiotici, anzi tende ad ingrandirsi e spesso e volentieri viene diagnosticata perché il paziente se ne rende conto quando trova ostacolo alla deglutizione o trova ostacolo alla fonazione. Le ulcere sono spesso, i tumori sono spesso così grandi che il paziente non riesce più a deglutire, non riesce più a muovere bene la lingua. Tutto ciò però ci porta già in una fase in cui la lesione sicuramente si è evoluta, anche perché la via di metastatizzazione più comune è al cervello, ai polmoni e alle ossa. È quindi importante eseguire uno screening accurato sul paziente di tutte le età perché se il fumo e l'alcol sono i fattori di rischio più importanti è pur vero che l'età media dell'insorgenza dei tumori del cavo orale ma in generale si è abbassata notevolmente. Quindi analisi del cavo orale, analisi dei tessuti molli dopo i 30 anni obbligatoriamente ogni 6 mesi. Biopsia incisionale in grossi dubbi, biopsia incisionale in margini di sicurezza. Con questa breve carrellata sulle patologie neoplastiche del tessuto del cavo orale io vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Vincenzo D'Amico.